Concentrazione e rilassamento Queste sono le cose più difficili da controllare quando si è sotto tanta pressione per vincere un torneo. La precisione di un colpo si ottiene 60% dalla parte tecnica e 40% dalla parte di concentrazione e di rilassamento. La routine del colpo dura circa 30 secondi da quando arrivo sulla palla, decido il ferro da giocare, mi metto il guanto e inizio a pensare al colpo che voglio tirare. La potenza senza controllo nel golf non serve quasi a niente. La soddisfazione di arrivare all'ultima buca con il controllo completo è incredibile perché comunque c'è tanto lavoro dietro, c'è tanto allenamento e quindi c'è una grande soddisfazione di essere arrivati in quel momento ad aver controllato tutto quello per cui si è lavorato.